Per chiudere questa nostra serie di video in montagna, chiudiamo con un video all'aperto dalle stalli che non vedrete, perché fa schifo questo supporto su cui registro, ma dettagli, insomma, stavo dicendo che chiudiamo, come abbiamo iniziato questa serie, con un video all'aperto di sera, e quindi avrete già capito, qualcuno sarà triste, qualcuno sarà felice, che finiremo questi video in montagna, mi spiace, ma è così, e niente. E finalmente eccoci arrivati a Sant'Angelo, nel posto in cui di solito facciamo i nostri vlog, adesso entriamo nella solita vietta, e poi ci vediamo alla mia postazione al pc qui a casa, e poi ci sarà anche una novità che non vi spoilerò, vi dirò alla postazione. Niente, ciao! Ed eccoci arrivati alla mia postazione, e niente, vi volevo anche dire che ho preparato una nuova postazione per tipo mettere, tipo quando bisogna fare dei disegni, o farvi vedere delle cose, e adesso ci passiamo subito, tra 3, 2, 1. Eccoci qua alla nostra nuova postazione, in cui magari qui metterò anche un green screen, magari che vi fa vedere un po' tutto, e... cioè, capito, per mettere gli sfondi, con i disegni, con le varie cose, e niente, è carina, vediamo un po' se riusciamo a farla andare avanti. Grazie a tutti!